Il Paradiso, puntate al 13 noni, Concetta alle prese con la possessività di suo marito. Ciro sarà geloso di Concetta e Gian Lorenzo nella prossima puntata del Paradisi delle Signore 9, che andrà in onda nella settimana dal 9 al 13 settembre. Le donne infatti finiscono per passare molto tempo a lavorare con gli stilisti, cosa che a Paglisci non piacerebbe. Intanto Odile arriva a Villa Guarnieri e inizia il suo primo litigio con Adelaide, dove Adelaide chiederà a Umberto di stare lontano dalla figlia. Anche il signor Marta, che sarà il direttore della Galleria Milano Moda, ha novità e conta di chiedere la collaborazione del signor Vittorio. Preoccupazioni di Adelaide La figlia di Adelaide, Odile, arriverà a Milano con l'intenzione di restarvi, e questo comporterà alcuni cambiamenti. La ragazza ricomincerà da zero e tra lei e sua madre si verificherà il primo litigio. Nel frattempo la contessa fa una richiesta inaspettata ad Umberto e gli consiglia di stare lontano dalla figlia. Adelaide è molto preoccupata per Odile, cosa che la spinge a confidarsi con Marcello, mentre Umberto riceve la notizia di un nuovo arrivo a Villa Guarnieri. Anche Marta inizierà una nuova vita alla guida di Galleria Milano Moda, ma trovare un nuovo designer potrebbe non essere facile. A questo proposito la figlia di Guarnieri cercherà aiuto da Vittorio Conti, che si dice pronto a sostenere l'ex moglie. L'iniziativa di Marta però non piace affatto a Tancredi e finisce per scatenare una guerra con il Paradisi delle Signore, che finisce per entrare in conflitto con Roberto all'interno del club ed è costretto a rimproverare Tancredi. Ciò fa arrabbiare molto Umberto, che non esita. Roberto e Marcello sono pronti per la nuova collezione a Ladies Paradise Tutti si danno da fare per dare il massimo nonostante l'assenza di Vittorio. Roberto e Marcello saranno coinvolti nel lancio di due nuove collezioni, una collezione uomo e una collezione donna. Gian Lorenzo Bottelli ha davanti a sé il vupio del lavoro, ma vista la sua poca esperienza in questo campo, lavorare con l'abbigliamento femminile non sarà facile. Lo stilista conta sull'instancabile sostegno di Concetta, ma Concetta avrà problemi familiari. Ciro, infatti, diventa sempre più geloso di Bottelli e del tempo che trascorre a stretto contatto con la moglie. Anche Salvatore ed Elvira hanno i loro problemi e, nonostante proseguano la loro relazione con grande entusiasmo, incontrano ostacoli. I genitori della ragazza, infatti, guarderanno Salvatore con pregiudizio, ma presto tra loro ci sarà una chiara spiegazione. Molto curioso riguardo Odile Odile è uno dei personaggi più attesi dai fan di Ladies Paradise, perché non l'avete mai vista prima. Odile era presente la scorsa stagione, ma ha assistito solo a un discorso tenuto da Adelaide, che era in Svizzera per incontrare la figlia appena nata. Quest'anno però la ragazza arriva a Milano e gioca un ruolo centrale nella storia. Adelaide vuole stare lontana da Umberto, ma perché? Guarnieri corteggia una ragazza così giovane oppure c'è un segreto del suo passato che non può essere svelato? Per ora la storia non va oltre e bisognerà aspettare per capirne di più.